Ebbene sì, insieme ai ragazzi di Gamindo ho avuto l'onore di poter lavorare al videogioco per Frullà. Ragazzi, non solo sono strabuoni, me ne hanno mandati tanti e come state vedendo dalle foto, me ne hanno mandati veramente tanti. Abbiamo lavorato insieme ai ragazzi di Gamindo al videogioco per Frullà e ragazzi sono stracontento del risultato che sta ottenendo questo videogioco perché ognuno di voi, chi gioca, chi si registra, ha la possibilità di ricevere un pack di succhi. Ed è una cosa fantastica fare questa cosa, sono stracontento che un'azienda oggi in Italia decide di fare una cosa di questo genere. Sono strafelice, sono tanto felice perché insieme a questo videogioco non solo ho lavorato insieme ai ragazzi di Gamindo ma anche con Manolo. Quindi c'è stata questa mega unione in arte ovviamente di Olook, lo conoscete benissimo. Vi lascio anche il link in descrizione di Gamindo che ragazzi ormai conoscete e vi consiglio di scaricare l'applicazione perché più giocate ai videogiochi più date soldi in beneficenza, quindi sapete che comunque fate soltanto del bene. Ma siamo all'interno di Fruitman, il videogioco per Frullà che adesso vi faccio vedere appunto come funziona il gioco e questo è uno dei giochi migliori che io abbia mai fatto dal punto di vista anche dell'ordine dell'animazione dei menu. Infatti non vi ho fatto vedere una cosa, anche il loading, guardate qui adesso faccio ricomincia. Avete visto l'animazione? Era una fragolina, adesso c'è la banana, è tutto randomico, infatti bellissima questa cosa. Sfondo rosso, animazione bellissima. In basso cosa troviamo? Troviamo il brick giallo. Ebbene sì perché loro hanno quattro diverse tipologie di brick, il brick giallo sono error e anche il mio preferito, ovvero quello banana e pera. E praticamente in mano in questo caso ho quello rosso ma in frigo ne ho veramente un botto, quindi non li ho voluti prendere tutti. Bene, però voglio farvi vedere appunto il videogioco dal mio punto di vista, quindi dal punto di vista dello sviluppo. A parte che comunque sono stracontento di tutto il lavoro che abbiamo fatto, i ragazzi di Gamindo, la classifica, tutto. Perché vi faccio vedere appunto come funziona il gioco. Clicco sul bottone info e infatti possiamo vedere che nel periodo che vada quando è uscito il videogioco fino al 31 agosto 2020, i vincitori delle classifiche settimanali vinceranno un premio, un pack di frullà vero e proprio. Infatti c'è quello lì, mela, fragola e mirtilli, il brick viola. Poi c'è anche quello col tappo rosso che è praticamente mela, fragola e banana. Quello giallo, il mio preferito, pera e banana. E anche quello mela e pera. Ragazzi, cioè, è una figata. A parte che ho scoperto il brand frullà proprio da poco ed è bellissimo il fatto che sono senza zuccheri. Non sto sponsorizzando, ve ne voglio parlare bene perché sono felice che oggi un'azienda del genere decida di voler appunto far promuovere il suo marchio in questo modo. È veramente molto molto bello. Indipendentemente che ho fatto io il videogioco, davvero ragazzi. È veramente bello vedere una cosa di questo genere, specialmente in Italia. Complimenti veramente tanto. Siamo all'intorno della schermata info e guardate un po'. Iscriviti anche tu, prova a battere i record e se arriverai primo, gusta di tutti i frullà. E praticamente potete vedere questo bottone. Che io adesso torno indietro, avete visto anche i colori schermata verde, adesso rossa. Se io clicco su questo bottone account, io posso registrarmi. I ragazzi di Camindo hanno fatto un lavoro bellissimo, ordinato. Praticamente noi ci possiamo registrare. Nome e mail. Tra l'altro io ho messo anche il font 8 bit di Manolo qui dentro. Possiamo accettare termini e condizioni e anche il trattamento di miei dati. Io adesso sto utilizzando non l'ultima versione, a dire il vero, sto utilizzando la versione che io ho su Construct. Ho aperto una delle ultime versioni, giusto per farvela vedere. Però veramente, lavoro incredibile. Torno indietro, avete visto la schermata che prima era viola. Torno di nuovo nel menu principale. Tra l'altro, musica incredibile. E vi faccio vedere adesso che è fatta anche la musica. Clicco sul bottone opzioni. Non solo posso attivare e disattivare la musica. Ma ragazzi, posso vedere appunto che il gioco è stato sviluppato dal team di Camindo. Io ho sviluppato il codice, quindi Samori Sciacca, Pixel Artist Deoluk. E poi i grandissimi complimenti vanno anche a Alicia Missori che ha fatto la musica. Lavoro stupendo. Abbiamo lavorato tutti bene, avevamo poco tempo a disposizione e vi ho fatto un prodotto ad hoc. Lo so che volete vedere il gioco. Posso anche andare a vedere la classifica. I migliori 3 e i migliori della settimana. In questo caso non state vedendo la classifica perché sto giocando direttamente da Construct. Che è il programma che io utilizzo per creare i videogiochi. Con cui ho realizzato questo videogioco. E vi ricordo che se volete imparare a creare i videogiochi, in descrizione trovate tutti i corsi gratuiti. A parte che vi ricordo che ogni giorno esce un video su questo canale. Quindi mi raccomando, cliccate il bottone iscriviti. Bellissima cosa che abbiamo fatto è che se l'utente non è ancora registrato, in basso appare un disclaimer che ci dice appunto che per entrare in classifica bisogna appunto registrarsi. Quindi clicco qui ed entra la classifica. Ragazzi, ordine puro. Perché poi queste schermate ci sono anche nel game over che adesso vi faccio vedere. Clicco il bottone torna indietro. Clicco il bottone gioca. Ed eccoci all'interno del videogioco. Tutorial che ci fa vedere che possiamo giocare sia con le frecce direzionali della nostra tastiera, sia facendo swipe ovviamente sul nostro dispositivo mobile. Quello che dobbiamo fare ragazzi è un Pac-Man. Noi in questo caso siamo il Brick Verde. Quello che dobbiamo fare è prendere tutte le palline qui che troviamo in giro, ma soprattutto, no no scappiamo scappiamo, ma soprattutto prendere la frutta in questione. È probabile che in questa versione trovate qualche bug, ma vi racconterò anche perché, a parte questa non è la versione finale. Ho preso la mela e quindi posso anche distruggere i nemici, che è tra l'altro appunto la pizza, gli hamburger, figata. Oh, c'era un piccolo bug, avete visto prima? Poi questa cosa l'abbiamo fixata, a dire il vero. I nemici si arrabbiano, ho fatto questa animazione bellissima. Ho preso tutti e due gli elementi che mi permetteranno di potermi trasformare in un nuovo frullà, come avete visto. Ho preso sia la mela e la pera. Quindi quando prenderò praticamente tutte le palline che vedo all'interno di questo livello, cosa succede? Mi trasformerò. Vediamo se ce la faccio a scappare da tutti. Vediamo se ce la faccio, ce la faccio. Vediamo, vediamo. Oh no, si è arrabbiato anche quello. Non so se ce la faccio o no. Ho l'ultima vita. Il gioco non è facile, però ho visto online che molti hanno fatto punteggi incredibili. Bisogna essere un po' skillati, a dire il vero. Infatti quello che sto facendo io è giocarlo male adesso, però forse ce la facciamo. Ce la facciamo, ce la facciamo. Guardate che bella animazione. Praticamente la cosa bella che ho voluto fare, che abbiamo voluto aggiungere tutti quanti, è stato questo, che quando noi prendiamo la frutta, che ci permette poi di trasformarci in quel brick, praticamente, facciamo vedere il prodotto. Ed è bellissima questa cosa, perché con la mele e la pera ci siamo trasformati nel brick mele e pera. Bellissimo. Veramente bello, 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 bello. Sono stracontento di come è venuto il gioco. Clicco sul bottone pausa, praticamente posso fare continua, ricomincio e faccio continua. Sono all'interno del gioco. Nuovo livello, sfondi completamente randomici. E vi racconto un po'. Io ovviamente ragazzi non voglio parlarvi troppo del gioco, adesso ho preso la super velocità, vi ho fatto vedere anche in un tutorial come fare questa scia. Insegno tutto, a dire il vero. Tra qualche anno vedremo cloni di Samuel e Shack ovunque. Spero che questa sia una cosa bella, oppure no. Ah, un nemico si è buggato lì in basso. Samuel, hai fatto qualche errore. A dire il vero, ora vi racconto anche che è probabile vedere qualche piccolo errore, o una vita soltanto, magari però voglio uccidere gli nemici, esatto. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, forse riesco a completarlo. Vediamo, vediamo. Oh, vai, vai così, vai così. Forse riesco a trasformarmi di nuovo. Ecco qui. Di nuovo mele e pera. In questa versione era randomico, però poi è probabile che ci dobbiamo trasformare non sempre in mele e pera. Adesso di nuovo, però se adesso io faccio ad esempio, torno indietro, vi faccio vedere, faccio torno alla home e faccio play. Io ragazzi voglio farvi vedere direttamente i giochi da Construct per farvi vedere il progetto, ma è probabile che questa, ecco adesso infatti ci dobbiamo trasformare in fragola, mela e mirtilli. Bellissima questa cosa. Vi consiglio veramente tanto di giocare. Troverete forse qualche piccolo errore in caso mandatelo che noi lo fixiamo in tempo. E siamo strafelici del risultato finale perché ci stanno giocando veramente tante persone. Non so se posso condividervi i dati, ma in caso poi Gamindo ne parlerà, o i ragazzi di frullare ne parleranno. Sono strafelice del fatto che il gioco è piaciuto tantissimo. Anche perché poi il post che ho messo su Instagram è piaciuto tantissimo. E questo è il gioco. Il gioco come l'ho sviluppato. Allora, per chi mi segue da un po' di tempo, vediamo se ce la faccio a vincere questo livello. Sono punteggio 650, no, non sono forte come molte persone che hanno fatto un punteggio incredibile. Dai, 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 dai. Hai completato il 2 pack. Mela, fragola, mirtilli. Bellissimo. Livello viola, anche qui, stupendo. Praticamente adesso vi faccio vedere un po' come è il game over. Quindi voglio andare a morire appositamente. Praticamente cosa succede? Come ho fatto questo gioco? Ve lo racconto in breve, non entro nel dettaglio perché sennò questo video potrebbe durare 30-40 minuti. Vi racconto un po' come ho fatto il tutto. Per chi mi segue da un po' di tempo, per fare che gli oggetti vanno a seguire appunto la mia posizione. E in passato già avevamo fatto una cosa di questo genere. Utilizzavamo ad esempio su Poor Dog il pathfinding, ma poi abbiamo cambiato questa cosa. Vi faccio vedere un attimo il game over. Avete visto come è entrato? Bellissimo. E guardate qui. Posso andare a vedere la classifica direttamente dal game over. Ecco. E se non mi sono registrato, sempre dal game over, posso registrarmi. Adesso non si vede perché appunto questa è un'altra versione, non è la versione finale. Però posso registrarmi. Ragazzi è incredibile. Vi faccio vedere un po' come ho fatto il gioco. Ve lo faccio vedere. Ci sono veramente un botto di layer. C'è veramente tanta tanta roba. Però voglio farvelo vedere in modo tale che comunque potete capire anche come ho sviluppato il tutto. E abbiamo poco tempo a disposizione. Quindi abbiamo scelto la soluzione più lean. Praticamente cosa ho fatto? Ho creato la mappa. È un png. Quindi non è una tile map. Ho creato i solidi. Quindi ho messo dei blocchi che voi non vedete. Che praticamente il personaggio non può superare. Il personaggio si muove ragazzi su che cosa? Praticamente si muove sul tile movement. Ho utilizzato un baby or tile movement che è fantastico. Che ovvero permette il personaggio di muoversi all'interno di una griglia. Ed è bellissima questa cosa. Infatti ci ho fatto già un video tutorial su questo canale. Trovate la playlist completa di tutorial proprio in descrizione. Se mi ricordo di metterlo a dire il vero. E praticamente quindi cosa succede? Che io ho creato questa griglia. Tutta la mappa. Il personaggio non può andare fuori. E quindi praticamente il personaggio si può muovere. Poi cosa ho fatto? Ho fatto che ho messo dei punti randomici power up. Quindi li ho creati io. Ho messo dei blocchi invisibili. Che sono questi qui che state vedendo. E praticamente io gli dico. Ah construct randomicamente di far spawnare un power up. Ce ne sono diversi. Vi consiglio di provarli. La cosa bella è che per i power up. Ma non ho avuto la geniale idea. Deo look. Di utilizzare questi qui. Cioè non sono proprio brick. Ma sono le vaschette con la polpa di frutta. Perché non sono succhi di frutta. Ma sono polpa di frutta. 100% frutta. Incredibili ragazzi. Non sapevo neanche l'esistenza. E ora che ho avuto modo di lavorare con Gamindo. Per fulla. Felicissimo. Vabbè lo potete sentire da me. Io sono sempre sincero con queste cose. Lo sapete. Ho creato questi piccoli blocchi invisibili. Dove io gli dico il gioco. Randomicamente decidi tu dove spawnarne uno. Ho fatto la stessa identica cosa per gli oggetti un po' più grandi. Ovvero la mele. La pera. I mirtilli. Che tu devi andare a raccogliere. E poi ho anche mostrato al gioco tutto quello che è calpestabile. E gli ho detto ok. In ogni posizione. Spawna i pallini. Infatti guardate un po'. Lui praticamente cosa fa. Ne spawna uno qua. Uno qua. Uno qua. Uno qua. E così via. Proprio sbagliato fare così a dire il vero. Diciamo che si poteva fare meglio. Avevamo poco tempo. Mi sono focalizzato tanto su gameplay. Dovevamo curare tanti aspetti. Quindi ho preso una soluzione più lean. Però il prodotto finale effettivamente è venuto veramente molto molto bene. Quindi sono felice. Abbiamo poi inserito tutti gli altri livelli. Sono veramente tanti. C'è il livello verde. Il livello giallo arancione. Adesso vado a togliere queste cose qui. Così si vede meglio. E praticamente per i miei amici abbiamo utilizzato il plugin Easy Star JS. Che è un plugin che praticamente sulla base della griglia trova il percorso migliore. Mi succedeva. Adesso non so se succede di nuovo. Perché poi insieme a Matteo Albrizio che ringrazio tantissimo. Che avete visto nella sfida uno contro uno. Anche lui utilizza Construct. Se abbiamo fissato del tutto. Praticamente che potrebbe succedere che si bugga. Ma dire il vero mi sa di no. E praticamente cosa abbiamo fatto. Cosa bellissima. Io poi ve ne parlo così con trasparenza. Perché voglio parlarvene. Cioè nel senso è bello parlare di sviluppo videogiochi insieme a voi. E mi diverto tantissimo. Praticamente cosa ho fatto. Io ho creato delle direzioni. Un po' come vi ho fatto con Pure Dog. Con le macchine di Pure Dog. Praticamente un nemico appena è su questa piattaforma. Lui può decidere se viene da destra. Quindi se viene da questa direzione. Da destra verso sinistra. Se è su questa piattaforma. Lui può decidere se andare su. A destra o a sinistra. Ma se viene da destra. Non può scegliere destra. In modo tale che non torna indietro. Ad esempio. Il fatto che lui va in giro. Funziona benissimo. Questa cosa ha funzionato veramente veramente bene. Infatti fino a quando lui non si arrabbia. Funziona benissimo. Ma può succedere che si bugga. Perché praticamente va in conflitto questa cosa. Ma poi se non l'abbiamo risolta. Comunque poi fatemelo sapere. In caso con un commento qui sotto. Non preoccupatevi. Anzi ragazzi. Giocate. Scaricate anche l'applicazione Gamindo. Giocate dalla web app. Giocate ovunque. Perché se volete vincere i brick. Giocate al gioco. Vi lascio il link in descrizione. Se volete donare. Potete donare. Giocando anche a tutti gli altri videogiochi su Gamindo. Quindi fatelo assolutamente. Il gioco non è stato difficilissimo farlo. Però il progetto era fare veramente qualcosa di bello. Poi noi l'ultima settimana. Power up che non erano pochi a dire il vero. C'è un power up dove praticamente ci sono tutti questi oggetti che girano. E vanno a distruggere tutti i nemici. Queste sono le vaschette che vi dicevo. The Olook ha fatto un lavoro incredibile anche qui. Utilizzare in 8 bit in uno spazio 48x60. Anzi sì 48x60 è veramente difficile. E ha fatto un lavoro incredibile. I nemici hanno diverse animazioni. Guardate qui cosa abbiamo fatto. Nemico 1 giù. Nemico 1 su. Nemico 2 giù. Nemico 2 su. Poi abbiamo anche questi altri nemici. E poi abbiamo anche ovviamente i nemici che dormono. Ci siamo voluti complicare ancora di più. Abbiamo messo un power up che addormentano i nemici. E siccome non ci piaceva fare che loro si bloccavano e basta. Abbiamo fatto che chiudono gli occhi. Ma in più cosa abbiamo voluto fare? Che appare la scritta ZZZ. Bellissima questa cosa. Appare questa animazione che stanno dormendo. Cioè ragazzi veramente un bellissimo lavoro. Sono strafelice. Che insieme ai ragazzi di Gamindo. Anzi io ringrazio tantissimo loro l'opportunità di aver lavorato con loro. Che poi sono più noi. Perché comunque ormai con Gamindo lavoro da più di un anno. E sono felice di lavorare con loro. Abbiamo fatto veramente un bel lavoro. I ragazzi stanno apprezzando tantissimo questo videogioco. Anche Frulla. E che dire. Io sono veramente felice di aver lavorato a questo videogioco. Se volete sapere di più riguardo lo sviluppo di Fruitman. Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Giocatelo e fatemelo sapere. Perché magari posso farci una live. O semplicemente portare altri contenuti. La cosa bella che potete vedere anche da qua. Adesso non riesco a spostarmi. E che se io clicco sul bottone account e non siano registrato. Ho una schermata. Se non ne ho un'altra. Che mi fa vedere appunto il nome. La mail. E il mio appunto gioco ottenuto. Quindi bella questa cosa. Abbiamo veramente fatto un lavoro incredibile. E ringrazio tantissimo Matteo. Che più tempo passa. E più riusciamo a lavorare bene insieme. Anche lì si è messo più tantissimo a lavorare alle difficoltà. Ogni quanto i nemici si devono arrabbiare. Perché abbiamo fatto questa cosa bella. Io e Matteo. Che è praticamente una sezione tutto su variabili. Quindi tutto si può modificare. Praticamente che spawna il nemico. Ok dopo quanto si arrabbia. E soprattutto quanto deve durare il fatto che lui è arrabbiato. E che quindi inizia a inseguirmi. Tutte queste cose qui. Non è ovviamente un Pac-Man vero e proprio. Su Pac-Man tutti i nemici avevano un'intelligenza diversa. Però il gioco funziona bene. L'obiettivo era quello di far divertire le persone. Hai tre vite a disposizione. E quanto riesci a fare con soltanto tre vite. Ragazzi provate il videogioco qui sotto in descrizione. Fatemi sapere cosa ne pensate. Fatemi sapere se voi siete anche felici di questo videogioco. Perché so che molti mi seguono anche soprattutto per questo. Vi ricordo che vi basta semplicemente iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati. Un pollicione in su se vi è piaciuto questo video. E niente ragazzi. Vi ringrazio per aver visto il video fino a qui. In descrizione trovate tutti i link utili. E ci vediamo quindi domani con un nuovo video. Ciao. 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 Ciao.